Ciao, sono Pasquale Di Gennaro e sono stato uno studente dell'Istituto Tecnico Luigi Naudi, in dirizzo AFM. Da dei primi tempi le mie idee erano chiare, ossia diventare un professionista nel settore della consulenza aziendale. Nel 2019 ho conseguito la laurea in economia aziendale e attualmente mi sto specializzando in amministrazioni dell'azienda presso l'Università di Foggia. Molto spesso mi fermo a ripensare agli anni passati su quei banchi e alle mille esperienze vissute. Ad esempio ricordo con molta emozione l'ultimo giorno degli esami di stato, dove mi sono fermato a ripensare ai 5 anni trascorsi e mi sono accorto di essere cresciuto non soltanto dal punto di vista professionale, ma soprattutto dal punto di vista umano. Oppure ripenso a quanto è stato imbarazzante il primo giorno di scuola, inconsapevole però di quanto sarebbe stato importante quel percorso per me. Mi permetto di dare un consiglio a chi oggi si trova a scegliere per il proprio futuro, ossia quello di cominciare già da oggi ad allenarsi per il mondo del lavoro. Il mondo è sempre più dinamico e le nuove tecnologie senz'altro offrono una serie di opportunità. Scegliere un istituto tecnico, come l'istituto Luigi Einaudi, che aiuta a percepire queste opportunità, ma soprattutto ti aiuta a comprare. Scegli l'istituto tecnico economico Luigi Einaudi.